Ciao, sono Luca. Avevo esigenza di vendere il mio appartamento, messo in vendita quasi due anni fa. Abbiamo provato tutte le soluzioni, tutti i canali ufficiali, non ufficiali, altre agenzie, poi grazie all'agenzia Gruppo Garanzia Immobiliare siamo riusciti a vendere il mio appartamento in più o meno 40 giorni. In questi due anni con i precedenti tentativi sono state fatte solamente 3-4 visite e nessuna delle visite è mai andata a buon fine e non c'è mai stato nessun tipo di riscontro positivo né di avanzamento nelle trattative. La mancanza di visite durante questo periodo in cui le varie agenzie avevano contratti di esclusiva sono sempre state motivate con l'immobilismo del mercato immobiliare. Il mercato immobiliare è bloccato, niente visite e quindi nessuna novità positiva per me. Il sistema adottato dai ragazzi è molto più tecnologico, innovativo e giustamente al passo con i tempi. Crea una visibilità maggiore dell'immobile e vengono usati diverse tipologie che altre agenzie al momento non usufruiscono, ne propongono al venditore o anche al compratore. Ragazzi mi ha comunque aiutato con delle carte che mancavano, che non erano difficile reperibilità a causa anche della mia nuova residenza che in questo momento è a Milano. Quindi un ringraziamento anche a lei soprattutto per essersi fatta carico di alcune cose che avrei dovuto gestire io ma anche per motivi di distanze chilometriche e di tempistiche lavorative non sarei stata in grado di fare. Io consiglierei questa agenzia intanto perché il personale è tutto giovane, competente, non sono i soliti chiacchieroni che si possono provare in giro. Io sono giovane e ho trovato delle persone giovani, competenti, sveglie e veloci. Ed è la cosa più importante se uno ha esigenze come il sottoscritto di vendere e di vendere velocemente.